Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane. Il talk di Leonardo è che domande ti fai? Che domande ci facciamo? Si sente? Ci siamo. Allora, io ti faccio buon lavoro. Grazie caro. Nel frattempo ti risistemo dietro il... Assolutamente. No, 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 inizia, inizia. Facciamo un applauso a Leonardo. Grazie, grazie, grazie. Allora, intanto che dalla regia mi sistemano tutto, faccio una piccola premessa, perché in realtà sono relativamente nuovo nel mondo Odoo e ho detto, paradossalmente... Grazie, André, che onore, che onore. E ho detto, boh, qua non posso giocare sul campo Odoo, perché saranno 7.000 persone che conoscono questo argomento, migliore di me. Quindi ho detto, boh, invento qualche cosa, chiedo a chat GPT, non lo so. Poi ho detto, no, mettiamo su un altro piano di comunicazione quello che vorrei raccontarvi. E vorrei parlarvi di che domande ti fai? Che domande ti fai perché? Cos'è che è importante nella nostra vita? Farsi le domande corrette, fondamentalmente. Questa era l'ultima slide, adesso possiamo andare. Scherzi a parte, scherzi a parte. Ci sono quattro cose nella vita che contano veramente, che possono influenzare il ottenere o non ottenere risultati. Io lavoro ogni tanto come formatore e mi capita di puntellare tantissimo le persone su, aiutarle, insomma, in qualche maniera, su raggiungere obiettivi, su raggiungere traguardi, su cercare di capire cosa vogliono fare e come arrivarci. E ci sono quattro cose, fondamentalmente, che cambiano veramente questi aspetti. Uno è l'ambiente, dove siamo, cosa facciamo, le persone che frequentiamo, le persone che vediamo. La fisiologia, come ci muoviamo nel mondo. Il focus, dove sono diretti i nostri pensieri. E il linguaggio, cioè come parliamo a noi e agli altri. E le domande sono bellissime perché vanno a prendere due di questi tre, di questi quattro settori, che sono il focus e il linguaggio. Ok? Quindi, domande perché domande? Domande che sono fatte da due cose, fondamentalmente. Il dialogo interno e il dialogo esterno. Il dialogo interno è come parliamo noi stessi, quindi tutto quello che pensiamo, tutto quello che ragioniamo, come elaboriamo problemi. Tra parentesi, in questa sala saranno il 90% delle persone che nella maggior parte del loro tempo risolvono problemi per loro e per gli altri. Quindi è abbastanza azzeccato come argomento. E poi il dialogo esterno, ovvero come comunichiamo al mondo che sta fuori. Questi due concetti sono importantissimi. Il dialogo interno, cos'è che appunto? è il nostro omino del cervello. Non sostanzialmente in mente l'omino del cervello, quello che quando vedete qualcosa si accende, dice ah ma questa cosa è interessante. Tra parentesi, probabilmente in questo momento starete ascoltando il vostro omino del cervello che vi dirà, che cazzo c'è sto qua? L'ospice in francese, tra parentesi, non so se ve l'ho detto. Tanto siamo vicini amici del Belgio. Quindi il cervello in un minuto si fa circa una cinquantina di domande. Dal tipo cosa stai facendo con questa persona, fa caldo o fa freddo, mi sento bene o mi sento male, ho sonno dopo i 400 paccheri che ho mangiato a pranzo e sulle tre il pomeriggio. Una serie di cose di questo genere. Anche in questo momento, quindi, il vostro cervello sta facendo domande. Il punto qual è? Che la qualità della vostra vita dipende tantissimo da che domande vi fate. Perché se le domande sono di qualità, fondamentalmente le risposte saranno di qualità. La qualità delle domande e delle risposte è intrinsicamente collegata, è direttamente proporzionale. Quindi domande di qualità portano a una vita di qualità. Perché se hai la capacità di farti le domande giuste, in momenti più difficili, può cambiare completamente qualsiasi cosa. Quindi la qualità delle domande, dove penso, cosa penso, che termini uso, come mi fanno sentire questi termini. Se dico che ho avuto una giornata, si può dire, presidente in francese, sempre di merda, penserò a qualcosa che puzza, è brutta, è caldiccia ma brutta. Se penso che ho avuto una giornata impegnativa, è una cosa completamente diversa. Perché nell'impegno c'è qualcosa di buono, ok? Ed è sempre la stessa giornata, dipende come la interpreto. Quindi domande di qualità portano a una vita di qualità, di risposta di qualità. Quindi la qualità delle domande è collegata alla qualità delle risposte. Che soluzione posso trovare, piuttosto che come mi posso sentire, cosa mi può dar forza, eccetera, eccetera. Il punto è quello che è che domande di qualità ti portano a risposte di qualità. Risposte di qualità ti portano a ragionamenti di qualità. Ragionamenti di qualità ti portano a pensieri di qualità, che ti portano a comportamenti di qualità, che alla fine ti portano risultati di qualità. La cosa bella è che sta cosa qua vale sia in positivo che in negativo. Domande potenzianti portano risposte buone, che portano ottimi ragionamenti, eccetera, eccetera. In negativo domande di merda ti portano risposte pessime, che ti portano a ragionamenti tremendi, che ti portano a pensieri orrendi, comportamenti pessimi, risultati zero. E questo è chiamato come il ciclo del cazzo di casino, sempre perché in francese lo speech avevano detto all'inizio. E questa cosa qua, tra l'altro, la cosa bellissima è che succede solo al nostro interno. Cioè non è ancora coinvolto il mondo esterno, ma ci arriviamo. Quindi, la capacità di farsi domande giuste va a condizionare tantissimo la nostra vita. Perché, pensateci un attimo, siamo a una domanda di distanza dal momento più importante della nostra vita. Cioè voi pensate alla vostra vita, avrete avuto quei 10, 20, 50, 100, 1000 momenti dove fare la scelta giusta o la scelta sbagliata potrebbe fare differenza. E in questo processo qua sicuramente sono state coinvolte anche le domande. E per questo vi racconto velocemente una storia, nel senso che a me è successo qualche tempo fa di dover cambiare completamente azienda, lavoro. Indipendentemente dal cos'è successo, perché è poco interessante per questo talk, è interessante il come è stata elaborata la cosa. Perché per una serie di motivi ho dovuto fare come Max Pezzali 883, spero che qualcuno riconosca il CD, tanto vedo qualcuno degli anni 90, 80 c'è. Il punto è quello che avevo due certezze nella vita fondamentalmente, la mia relazione e il mio lavoro. E sulla seconda certezza, il 50%, ho dovuto fare tre passi indietro. E la prima cosa che mi sono chiesto è, cazzarola, devo cambiare completamente la mia vita, ma perché è successo proprio a me? Perché è successo proprio a me? Perché ho sempre cercato di dare il massimo, ho cercato sempre di essere un ottimo collega, un'ottima persona, ho fatto cool, un attimo, insonio, cazzima. Ma perché è proprio a me? E questa cosa qua mi è successa, praticamente di pensarla, ovviamente, subito dopo che era successa una serie di cose, assolutamente a caldo, fino a quando poi sono andato davanti a una spiaggia, fondamentalmente ho guardato al mare, e piano piano ho iniziato a svanire questo perché è proprio a me, perché è proprio a me. Perché ho capito che non era una domanda interessante, e soprattutto utile per quello che dovevo fare. Quindi davanti al mare, incazzato, infastidito, ci stava, eccetera, eccetera, ho pensato, ho detto, ok, ma a tutti gli effetti cosa posso fare in questo momento? Qual è la cosa migliore che posso fare? Come posso dare il meglio per me e per gli altri in questo momento? E questa cosa qua ha fatto veramente la differenza della mia esperienza, perché io ho detto, bene, posso passare dal perché è proprio a me, perché è questa sfiga, bla bla bla, al bene, cosa facciamo adesso per tirar fuori il mio da questa situazione? Quindi come posso dare il meglio in questo momento, per me, per gli altri, per le persone che ho attorno? E questa cosa qua, in realtà, fa parte sempre del diagogo interno di cui vi parlavo prima. Stessa situazione, pensieri diversi. Stesse condizioni, diversi ragionamenti. Era la stessa situazione tre minuti prima, quella da lì a là, ok? Il problema qual è che era? Che all'inizio mi stavo facendo delle domande che si chiamano in gergo dei potenzianti. Quindi domande che ti tolgono potere, ti tolgono quello che puoi fare, ti portano ad avere dei limiti, ti portano a mollare, ti portano a rinunciare, ti buttano giù, ti dicono perché, 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 perché. Domande dei potenzianti, vi tolgono potere, vi tolgono la possibilità. Anche qua, si innesca una serie di cose del tipo, non riesco a fare qualcosa, quindi non sono capaci di fare questa cosa, quindi sbaglio sempre, quindi non ce la farò. E si potenzia all'infinito, mannaggia, tutto quello che non va bene chiedersi, ok? Altre domande dei potenzianti, giusto per farvi qualche esempio, sperando di ovviamente aiutarvi, nel senso che l'obiettivo di questo talk qual è che è, farvi riflettere su cosa vi può aiutare e cosa non vi può aiutare. Altre domande sono, per esempio, perché le cose non cambiano mai? Com'è possibile che non ne combinino una giusta? Perché le donne e tutti mi trattano male? Perché gli uomini per par condicio mi trattano male, assolutamente, però mi sa che succede più sulle donne per gli uomini. Perché è successo proprio a me? Faccio un esempio rapidissimo, mi si buca la gomma l'altro giorno, cazzo posso scendere dalla macchia e dire perché proprio a me mi si è bucata la gomma, mannaggia, come fanno adesso? L'altro giorno ho fatto un incidente, il primo incidente della mia vita, con una macchina nuova, che sarà un disastro, sono sceso e ho detto porca, sono un cretino, perché proprio a me è successa sta cosa? Porca paletta. Se uno si chiede perché proprio a me è successa sta cosa, il cervello, vi ricordate che il cervello si fa 50 domande al minuto, ti risponde perché sei uno sfigato, punto, cioè non è che puoi dire altre cose, ok? Chiaro. Il problema qual è che quando le persone magari hanno una bella giornata, non è che si chiedono, cazzo perché ho avuto una bella giornata? Particolare è sta cosa, molto particolare. Non a caso nel vocabolario italiano c'è un terzo di termini in più in negativo che in positivo, ma questa è tutta un'altra storia. Il cervello cos'è che vi risponde quindi sul perché? Perché te lo meriti? Perché è giusto così? Perché sei sfigato? Basta, cioè molla tutto quanto, ok? Perché è successo proprio a me? Altri esempi di domande depotenzianti, ok? E se poi te ne penti? Ok, domanda più depotenzianti in assoluto, ok? Perché? Perché è limitante, vi limita su cosa potete fare, cacchio. Quante cose avreste potuto fare senza pensare perché me ne pento? Fondare nuove aziende, fondare una società, fare quel programma, fare quello script, lanciare quella cosa. Mille cose, mille cose. Quindi, il punto è quello che è, che le domande, cioè come ci parliamo noi stesso, influenzano il nostro focus, cioè dove sono diretti i nostri pensieri. Perché, abbiamo detto prima, domande estremamente negative, pensieri estremamente negativi. Domande estremamente potenzianti, pensieri assolutamente potenzianti. Voi pensate a un aereo, ad esempio, una nave, cambia direzione 74 volte al secondo. Perché? Perché intanto va lì così, fa mezzo metro, poi mezzo metro, poi mezzo metro, perché sai esattamente dove deve andare, ok? Sai esattamente dove andare, quindi prende la direzione, magari un po' storto, magari sì, magari no. Però il focus è su dove devo andare. Quindi, il focus va sempre postato sul come posso raggiungere ciò che voglio, non sul perché non ce la sto facendo, perché sennò è un casino, ok? Appunto perché il perché fa sì che noi continuiamo a tornare sui nostri stessi pensieri, quindi non dà quella idea, cioè da un, come si dice, una sorta di staticità quello che facciamo, siamo sempre nel nostro cerchio, come si dice, il cerchio dei problemi. Invece il come ci porta all'azione, ci porta al movimento verso la soluzione, è una cosa completamente diversa. Quindi, parlando di domande potenzianti, come dicevo prima, domande potenzianti sono quelle che vi danno potere, quindi spostano il focus sul come, sulla possibilità, sul possibile, ok? E quindi alcune domande potenzianti sono, per esempio, come posso dare il meglio adesso, in questa situazione? Cosa c'è di buono in questa cosa? Piuttosto che come posso migliorare me stesso in questa cosa? Oh, non ce la faccio fare questa cosa, bene. Risposta numero uno, possibile, non ce la farò mai. Perché non ce la faccio mai? Risposta numero due, ok, come faccio a farla? Ragazzi, cosa devo mettere in pratica? Quali sono le cose che devo imparare per? Piuttosto che sono giù, sono incazzato, sono deluso, ok? Come posso fare per stare il mio meglio adesso? Come posso fare per stare meglio in questo momento? Come posso cambiare il mio umore? Magari basta una canzone, magari basta un abbraccio, magari basta qualsiasi cosa, ma come posso farlo adesso? Piuttosto che come posso fare ancora meglio questa cosa che sto facendo? Come posso trasformare questa cosa in qualcosa di buono? E questo è stato il mio mantra. Cosa c'è di buono in questo? Oppure, caso pratico, devo comunicare con un collaboratore, con un collega, con una persona, con un parente, con un figlio, qualsiasi persona che non ce la fa capirvi manco per il rotto della cuffia. Ok, come posso comunicare meglio con questa persona? Io vi assicuro che le persone hanno risultati differenti, completamente differenti, letteralmente opposte, quando si fanno queste domande, domande potenzianti. Quindi, la domanda che vi faccio è, quali sono le domande non buone che ti fai, che vi fate, insomma? Perché su questo invito a lavorarci, invito a pensarci su e a dire, bene, ok, sto facendo sta cosa, non ci riesco, ok, mi sto limitando, mi sto facendo una domanda sbagliata, come posso fare a? Come dicevo prima, la cosa divertente delle domande, ma in realtà da comunicazione, è che ha due fattori, comunicazione interna e comunicazione esterna, quindi come il dialogo esterno, come comunico con gli altri, ok? Quindi, anche qua, quali sono le domande che potrei fare a questa persona, con cui non riesco a capirmi, per aiutarla ad arrivare dove vogliamo? Anche perché se io dico, guarda, no, non sei capace, lascia stare, in realtà il problema qual è che è? Che il collaboratore, il collega, chiunque vogliate, si sente un incapace, quindi non arriverà mai oltre al suo problema. Invece, un altro approccio potrebbe essere, ok, mi rendo conto che sei in difficoltà, come puoi fare per risolvere questa cosa adesso? Che risorse ti servono per andare dove vuoi andare? Come posso aiutarti per fare questo? Come, 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 come? Non lo so, questo è un trucco da comunicatore. Non lo so, ok, se lo sapessi cosa faresti in questo momento? Ragazzi, vi assicuro che chiunque vi risponde non lo so, potete dirgli sta cosa qua e nel 90% dei casi vi danno una risposta differente al non lo so, questo è super utile, lo uso almeno 70 volte al giorno. Quindi, dare a utilizzare con, questa slide vale almeno tutto il prezzo del biglietto, Andrea, cross-loce a metà, bene, come potresti fare, amore, per lavare casa, preparare la cena, pulire le stoviglie e stasera divertendoti? Piuttosto che, come posso avere 200 euro in più in busta paga, caro capo? Oppure collaboratore, cosa stai cercando in questo momento? Come posso aiutarti a realizzarlo? Come possiamo arrivarci insieme? Domande differenti, risultati differenti, comportamenti differenti, ok? Quindi, in realtà, la cosa che vorrei veramente trasmettere con tutto il cuore è che il come comunichi agli altri dà degli input e dà degli output. Il come comunichi a te stesso dà degli input e dà degli output. L'importante nella vita è farsi le domande giuste. Grazie. Ah, non a caso penso che c'è un momento di domande adesso. Sì, sei stato super rapido. Tra l'altro, condivido tutto quello che hai detto, alcune tecniche le utilizzo anche io. La cosa bella è stata che, una delle ultime slide, c'era scritto domande. Sono scattato perché ero convinto fosse finito il tutto, perché fossimo arrivati alla sezione di domande e risposte. Prossima domanda è come faccio a vivere Yudu Days con meno ansia, per esempio. Con meno ansia. Divertendomi. Beh, di divertirci credo che ci siamo divertiti. È stato bellissimo o non è ancora finito? È stata un'esperienza bella, che è ancora nel vita. Ci abbiamo ancora qualche altro talk. Vediamo se ci sono domande, oppure sono rimasti tutti tramortiti. La domanda è stata come faccio a insegnare ai miei colleghi in 35 secondi quello che mi ha detto in due giorni. Ah, ottimo. Però diciamo che il risultato c'è stato, quindi ci siamo riusciti. Sì, sì, sì. Va bene. Ecco, giusto per, in realtà, questa cosa qua delle domande è veramente stato un passaggio fondamentale nella mia crescita come professionista, come impregnatore, tra virgolette, chiamiamaci come vogliamo. Soprattutto nel comunicare con gli altri, ok? Ed è proprio una differenza sostanziale questa. Nel rapporto con i colleghi, che magari è sempre difficile, nel rapporto col collaboratore, che magari è complicato, non mi capisci, non ti capisco. Probabilmente è una questione di domande, ok? Assolutamente sì. Tra l'altro, voglio dire, molti di noi, diciamo, hanno quell'abitudine di fare automaticamente le domande depotenzianti. Assolutamente. Come le affermazioni depotenzianti. E ti portano, ovviamente, a depotenziare il tutto. Sì. Per cui, diciamo, questo cambio d'approccio, questo cambio di paradigma mentale, è una cosa che ti stravolge completamente in positivo. Assolutamente. Lo condivido perché anche io ho fatto un percorso di questo tipo. Va bene. Facciamo un applauso a Leonardo. Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane.